salve a tutti ragazzi doveva esserci anche il mio compagno di avventura ma avevamo appena registrato il video e mi ero accorto che l'audio non andava il suo perché è mio se sentivo e allora ragazzi rifaccio il video io da solo ma dalla prossima sul suo canale il secondo episodio mi raccomando iscrivetevi trovate tutti i link per seguire Ale Bianconero in descrizione aprite la descrizione perché questi video sono importanti devono andare bene sia qui che sul suo canale mi raccomando perché è iniziato il fantacalcio dei youtubers a coppie 2023-2024 lasciate un like di sostegno per il primo video qui sul mio canale visto che la rosa del fantacalcio l'ha portata a lui si è deciso di come un accordo di iniziare qui sul mio la rumba degli scontri diretti e allora niente come dire la sfiga si vede già dall'inizio giocavamo contro la coppia fiorentina Filippo Ferroni Luigi Casti Diego Luigi Casti che salutiamo e che dire partiamo da loro partiamo da loro e mi metto qua 343 loro eh con Mike Magnan in porta 6 clean sheet 7 e il Bologna ha iniziato a martellare già dal primo secondo perché Lico Gianni ha preso una traversa perché comunque il Bologna aveva avuto parecchie occasioni per segnare a Mignani ma Mignani tiene la porta chiusa iniziano bene primo difensore Scurse prende 6 secondo difensore Milenkoic a 6 e mezzo ha munito 6 terzo ed ultimo difensore Gabriele Zappa del Cagliari che prende 6 qui qua tutto a posto centrocampo centrocampo a 4 Ilic Ivan Ilic prende 6 Wallace giocava contro la Juve prende 5 e mezzo Albert Gudmundsson il Genoa perde 1 a 4 in casa con la Fiorentina ma lui prende 6 e mezzo e l'ultimo centrocampista è Martin Deron dell'Atalanta che prende 6 e mezzo tranquillo tranquillo passiamo all'attacco come primo attaccante hanno Marco Sturam che prende 6 e mezzo e i francesi ci hanno dato veramente vicino a segnare al Monza però non è stato così Zola prende 6 fa strano che abbiano messo solo 2 giocatori a Fiorentina l'ultimo attaccante non gioca è Berardi e gli subentra da panchina Andrea Pina Monti col 5 e mezzo che era secondo panchinaro se non ero perché il primo era Mulattieri sempre del Sassuolo ma senza voto quanto hanno fatto ragazzi 67 e mezzo hanno fatto un gol e noi dovevamo fare almeno 72 vediamo se ce l'abbiamo fatta ma iniziando subito male perché la scelta era Rui Patricio contro la Salernitana o Falcone contro la Lazio è di comune accorde perché ragazzi fin dalla prima sera di avvicinamento alla giornata ci siamo parlati mettiamo Rui Patricio e Rui Patricio prende 2 peri da Candreva 6-2-4 pazzesco difesa 3 anche noi 3-4-3 a specchio e Smalling Smalling prende 5 e mezzo primo gol di Candreva sbaglia lui a ruota Romagnoli l'altro l'altro romano prende 5 e mezzo Dodo non gioca la prende senza voto entra troppo tardi ragazzi la panchina fa piangere perché primo prima panchina di 3 difensori abbiamo messo Bicolle che ha preso 5 terzo panchina un certo Danilo D'Ambrosio che contro l'Inter ha preso 6 non ve lo metto in sovraimpressione ma ha preso 6 ha preso 6 andiamo col centro capo Morten Torsby prende 4 e mezzo e la domanda sorge spontanea Goodmanson sono 6 e mezzo Torsby 4 e mezzo il Genoa ha perso comunque 4 a 1 divergenze di voto interessanti però vabbè e poi dopo Torsby arriva il 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 Napoletano Mattropolitano 7 più 3 10 ci rialza un po' la la via verso il 72 Costice però non gioca entra Macumbu del Cagliari voto 6 voluto fortemente da me perché ragazzi secondo me ha il 6 assicurato questo giocatore e comunque 5 credit investiti se avete visto il video della rosa da Ale Bianconemo ci sta ci sta e ultimo centrocampista Samu Ciakueze prende 6 entra il 6 politico glielo danno fortunatamente perché non ha fatto niente di che arriviamo all'attacco attacco a 3 infortunato Quarascheglia che doveva essere il titolare insieme comunque a Sanabria che prende 6 Dovan Zapata non era nei piani ma prende 6 e doveva esserci Quarascheglia al suo posto sembra che rimanga all'Atalanta Dovan Zapata sembra sembra alla Roma non ci va speriamo rimanga all'Atalanta e come ultimo attaccante ragazzi mi ha toccato esultare per questo per il fantacalcio assi e spiocole io li 10 rub 7 e mezzo più 4 11 e mezzo ma purtroppo ragazzi si fanno 70 punti e allora è 1 a 1 Berarreal Rubin Kebab 1 a 1 e capite bene con la scelta di Falcone che ha preso un voto e mezzo in più e comunque un D'Ambrosio messo il primo panchinaro la vittoria si era fatta ma va bene così 1 a 1 ce lo prendiamo meglio un punto che zero ma i tre punti erano vicini ma siamo all'inizio cosa ha detto la giornata che Schalke 104 ha vinto contro Anguilla FC 3 a 1 le Eagles FC Schalke 104 sono Leon Francesco Esposito gli Anguilla FC sono Danny 26 e Gabriele Cipriano gli Eagles sono i due laziali Gianna Bianco e Celeste Davide Terenghi che vincono contro Stombir ma Stombir ragazzi non giocherà perché c'è stato un inghieppo a fine asta non hanno la squadra non hanno l'allenatore in prima e quindi va da sé che è la squadra materasso di questo fantagalcio ci abbiamo provato in tutti i modi Malikos vincono 1-0 facendo 70 punti do insemini di Walter di Maneo de Sport e il Mustang vincono contro Pistoiese e Fendi che sono Tommy e Vito 2-0 e si conclude col botto la prima giornata perché il regno di Firenze di Diego e di Karol Zito vincono 5-3 contro Elas Madonna di Javiox e Ersnilox la 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 classifica parziale è solo una giornata vedono al primo posto Regno di Firenze Shark 104 12 insemini Eagles FC a 3 punti messi primo Regno di Firenze per punti totali Shark 104 subito dietro 12 insemini però alla fine sono tutti e 4 primi quindi i secondi che qui riporta quinti e sesti sono Pira Reale FC e Rubin Kebab ha un punto e poi tutti gli altri sono terzi ma tutti a 0 e la Smadonna Anguilla FC Pisto Ise nella Fendi e Aston Bira che sarà l'ultimo della classe a fine fantacalcio e Ale Bianconero si scusa per i problemi tecnici sì però alla fine ragazzi un pensiero condiviso da entrambi si poteva vincere questa questo fanta poteva iniziare nei migliori dei modi è iniziato a metà perché comunque un punto come detto prima meglio di zero ci lavoreremo sulla sulla formazione perché alle porte la seconda giornata del fantacalcio non vi spoilero il calendario perché non ho il calendario sotto mano e niente link in descrizione oltre al canale di Ale Bianconero YouTube trovate i link social di entrambi perché siamo entrambi su Twitter siamo entrambi su TikTok siamo entrambi su Instagram e se volete vi lascio anche Instagram lui no a Facebook quindi seguitelo seguitelo se non siete iscritti al suo canale iscrivetevi ma penso siate iscritti road to 4000 iscritti sta facendo mancano pochi e niente iscrivetevi anche al mio canale già che ci siete povero Dani football e niente ci vediamo alla prossima con il fantacalcio sul canale di Ale Bianconero qui da me e lui indirettamente è tutto è iniziato il fantacalcio smadonneremo in due non da soli bella